Da ieri gli uffici della Serit di Gela sono chiusi per tutto il mese di agosto e il territorio perde un servizio strategico, un vero e proprio danno. La denuncia di Antonio Rubio, presidente provinciale di Casa Artigiani. Non è possibile, dice Rubio, che la città di Gela perda pezzi così importanti. Adesso molti utenti saranno costretti a recarsi a Caltanissetta sfidando le alte temperature di questi giorni. Casa Artigiani ha già chiesto un incontro a livello regionale per capire i motivi di questa chiusura. Vorrei precisare una cosa importante. A domanda, si può chiudere un ufficio pubblico? Perché mi sembra una cosa un po' strana. Chiudere un ufficio pubblico? Soprattutto in questo periodo. Prima faccio una prefezione. La settimana scorsa è accaduto all'ufficio del lavoro per un guasto, a un motorino, e chiudono l'ufficio per quattro giorni. Adesso la Serit chiude per un mese. A questo punto c'è un problema molto grave. Siccome tocca sempre a questa città pagare sempre delle ingiustizie, ma questo riguarda anche non solo il personale, che giustamente una volta chiuso sarà dirottato in altri posti, ma qua viene meno, viene calpestata la dignità delle persone e di tutta la popolazione gelese. E metto anche il comprensorio, perché Seritigela, come l'Agenzia delle Entrate, ha un bacino del comprensorio. Io invece voglio fare un appello. Siccome siamo e sono, i nostri politici sono tutti in campagna elettorale e nessuno si rende conto di cosa sta accadendo in questa città che è sempre denigrata e calpestata, a questo punto io lancio un messaggio. Io spero che a livello regionale e a livello anche amministrativo comunale, io spero che dalle prossime elezioni ci sia un cambio di generazione, cioè basta più questi signori seduti a non fare. Sicuramente io voglio dire che c'è qualcuno che farà il suo lavoro, per carità, però abbiamo una grande maggioranza che non gliene frega niente di questa città. Io lavorerò sempre per quanto riguarda, anzitutto per il rispetto delle istituzioni e quindi io spero prima delle ferie o dopo, abbiamo preso un appuntamento presso l'assessorato per decidere il motivo di una chiusura di un ufficio pubblico. Posso capire un paio di giorni, ci sono le disinfestazioni, può accadere qualche problema di ristrutturazione, ma un mese è veramente incredibile. Adesso noi assistiamo, soprattutto a persone di una certa età, che non hanno il mezzo, prendono l'autobus, si devono regare a Caltanissetta, 30-40 gradi, che in questi giorni 40 si stanno superando. Insomma, qui viene calpestata veramente la dignità del popolo gelese.